Gianni Colacione, 17 luglio 2019, siamo a Castel Sant'Angelo all'interno della rassegna estiva letture d'estate e come abbiamo fatto l'anno scorso intervistiamo Margherita Schirmacher che è la responsabile degli eventi, ci illustra un pochino quali sono gli eventi di quest'anno e anche gli ospiti oggi insomma siamo un po' in ritardo rispetto allo scorso anno, a dire la verità abbiamo cominciato lo scorso anno all'inizio della rassegna, quest'anno facciamo questa intervista già la rassegna è iniziata. Ciao Gianni, grazie per esserci tornato a trovare, abbiamo iniziato da un mese possiamo fare un po' il punto della situazione e direi che sta andando bene qua nei giardini di Castel Sant'Angelo quest'anno siamo su un solo viale, abbiamo uno spazio eventi però più grande, con un vero e proprio palco e le persone distribuite in piazza, una novità questa rispetto allo scorso anno, una programmazione più ristretta più stringata, facciamo solo un evento al giorno, però più grossa, perché poi abbiamo scelto di fare un evento ma sempre più grande di quello che facevamo gli anni scorsi, scelto con più cura se vogliamo e invece cosa altro c'è? Stanno facendo shatsu in questo momento, perché abbiamo sempre dimostrazioni di shatsu da qua fino alla metà di agosto, ci sono i bambini che giocano intorno a noi, alle nostre spalle, la libreria per ragazzi quindi è sempre data grande attenzione ai più piccoli che qua vengono a leggere, a giocare, ad ascoltare letture poi c'è una mostra su Alberto Sordi a cura del centro sperimentale lungo il viale, lo intravediamo da là e siamo a metà programma, mancano ancora tanti ospiti, fammi pensare, avremo adesso, nell'ultima settimana di luglio verrà il rapper Chiave a fare una serata sui poeti dell'antimafia, un reading concerto verrà Omar Pedrini, il rocker dei Timoria che ha scritto un libro e presenterà il suo libro e farà anche qualche nota, verrà Simon and the Stars, facciamo sempre un appuntamento ogni anno con lui per parlare di stelle, libri e cinema, sarà qua con noi poi nei giorni sotto ferragosto faremo una programmazione serrata di concerti che spazieranno dal rock and roll alla musica popolare con Raffaella Misiti o avremo anche musica antica barocca con Simone Valle Rotonda e poi verso la chiusura, altro grande ospite, avremo con noi Ascanio Celestini, Solo e Newt il duo di poeti e musicisti che verranno direttamente qui da Napoli insomma ancora c'è tanto anche se siamo a metà qui nei giardini di Castel Sant'Angelo Margherita ci sono le attività diciamo ludiche però insomma in qualche modo sono anche cioè non è un divertimento fino a se stesso insomma ci stanno delle attività ludiche interessanti oltre al ping pong che comunque è interessante c'è anche gli scacchi dei giochi particolari insomma anche i bambini in qualche modo giocando possono imparare qualcosa magari anche qualcosa di nuovo visto che sono i giocattoli che oggi difficilmente si trovano nelle case assolutamente qui ci sono per esempio tutti questi tavoli i ragazzi possono provare giochi nuovi anche complessissimi dei quali ancora non ho ben capito però si appassionano tantissimo quindi facciamo anche poi tornei insomma l'importante è stare insieme, l'importante è uscire di casa, stare in un giardino, giocare far familiarizzare, socializzare mentre magari i genitori si seguono una presentazione o un concerto in piazza e poi vabbè sì ping pong e biliardini immancabili Ti Margherita non mi ricordo se l'anno scorso l'abbiamo detto diciamo da chi è organizzata, sicuramente abbiamo detto da quanto tempo è organizzata qui questa mi ricordo che abbiamo parlato anche di un'edizione molto tempo fa è un altro nome, era invito alla lettura se non sbaglio ecco c'è un'associazione che organizza questa, ecco ne vogliamo parlare un attimo sì, lettura d'estate è organizzata interamente e interamente promossa dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura che appunto in realtà sono due persone, marito e moglie, librai da sempre che erano appunto i proprietari della libreria Invito alla Lettura su Corso Vittorio Emanuele quella che poi chiuse per una richiesta di affitto eccessivamente alto, strano e che appunto fondarono Invito alla Lettura che era all'epoca una delle prime manifestazioni dell'estate romana e poi con Tenacia, insomma non hanno mollato e poi è cambiato il nome ma insomma gli artefici sono sempre loro e quindi è organizzata da loro infatti c'è anche la libreria dell'usato qua all'ingresso e che appunto gli avventori riconosceranno gli oggetti vintage, le radioline, le scelte proprio della libreria storica Invito alla Lettura In qualche modo la passione per i libri ha portato a ricollocarsi ma neanche tanto sempre con un occhio alla promozione dei libri che è una cosa importante poi peraltro qui è tutto gratuito quindi con un'accessibilità da un punto di vista economico totale Assolutamente, assolutamente qua tutte le iniziative sono gratuite e accessibili e l'unica cosa raccogliamo, chiediamo ai nostri insomma al pubblico alla fine dei concerti o comunque lungo i viali facciamo degli annunci noi raccogliamo ogni sera fondi per Peter Pan Onlus che è un'associazione che si occupa di, che è collegata all'ospedale Bambin Gesù qui di Roma che è anche insomma in prossimità rispetto a noi, in prossimità spaziale loro si occupano di costruire appartamenti, di dare casa ai piccoli pazienti del reparto di onquematologia del Bambin Gesù a loro e alle loro famiglie per permettere insomma ai bambini che stanno facendo appunto cure, chemioterapia o altro insomma abbastanza difficili, gli danno la possibilità di farle stando accanto ai loro genitori quindi loro danno appunto una struttura e noi raccogliamo fondi ogni anno con i tornei di ping pong e bilardini anche tra l'altro oltre che appunto le donazioni spontanee del pubblico al termine dei nostri eventi e possiamo dire che insomma alcuni degli appartamenti o degli arredamenti o dei giochi che sono lì per i bambini ricoverati sono anche grazie a questo evento dell'estate romana Perfetto, allora in chiusura diciamo i riferimenti quali possono essere dove possiamo trovare dove chi è interessato può trovare delle informazioni ovviamente parlando di internet in primis www.letturedestate.it Instagram letture, chiacciola letture d'estate Facebook letture d'estate Twitter non ce l'abbiamo però è tutto siamo lì, ci sono tutti i nostri eventi, gli aggiornamenti in tempo reale Grazie a Margherita Cilmagher, venite tutti quanti a letture d'estate a questo punto Grazie a tutti